Rieccoci su Sicilia 24, ben ritrovati. Apriamo questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia parlando di eventi, uno nello specifico il Catania Book Festival. Ci racconta tutto Lucio Di Mauro. Al via il Catania Book Festival, la fiera internazionale del libro e della cultura che tornerà a Catania dal 5 al 7 maggio 2023 al centro fioristico Le Ciminiere. Grandi firme della narrativa italiana, esordienti promettenti, scrittori siciliani, oltre a incontri, mostre, laboratori ed eventi collaterali. Il tema di quest'anno è dedicato a La Scoperta. Il Catania Book Festival quest'anno è arrivato alla quarta edizione, si terrà all'interno della magnifica location del centro fioristico Le Ciminiere. Abbiamo raddoppiato le aree quest'anno, quest'anno tra l'altro una grande avvertura con la prima nazionale del Premio Strega. Apriremo con la tozzina dei finalisti del Premio Strega, sarà un'emozione unica perché è una prima volta inedita per la Sicilia, quindi sentiamo addosso una grandissima responsabilità ma siamo sicuri che sarà un evento memorabile per tutti gli appassionati della lettura e non solo. Diciamo gli appuntamenti da Caggione a Caggione, soprattutto Gerari, e poi se ci vuoi annunciare, a parte quello che hai già detto, una chicca sicuramente da non mancare. Gli eventi saranno tantissimi, abbiamo ampliato il calendario rispetto all'anno scorso, gli appuntamenti sono dal 5 al 7 maggio 2023 al centro fioristico Le Ciminiere, ci saranno oltre 150 appuntamenti nei tre giorni, quindi diventa difficile scegliere qualcuno, però sicuramente vi invito per le mostre che ci saranno all'interno del festival, uno organizzato all'Accademia delle Belle Arti di Catania, uno organizzato da Amnesty International, per gli eventi con Gaetano Pecoraro, Daniela Collo, Rocco Tanica, tantissimi altri personaggi che abbiamo annunciato in conferenza stampa, e niente, continuate a seguirci per scoprire tutto il programma. Quindi a questo punto apriamo un bel libro e ce lo gustiamo soprattutto anche in questa edizione vostra. Assolutamente sì, vi aspettiamo per raccontarci insieme, scoprire insieme gli infiniti mondi che la lettura può raccontare.